Pugno duro dell'amministrazione Servalli per i cittadini metelliani che sporcano la città non rispettando le buone prassi della raccolta differenziata. L'esecutivo metelliano infatti ha deliberato l'inasprimento delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti soliti urbani. Occhio in particolar modo a chi abbandona i rifiuti in strada senza rispettare giorni ed orari di conferimento. Da 150 euro per l'utenza domestica e dai 250 per le attività produttive e commerciali, ora la sanzione più salata sarà uguale per tutti, 500 euro. La fase repressiva che partirà a settembre tuttavia sarà anticipata per tutto il mese di agosto da una massiccia campagna di sensibilizzazione dei cittadini. Tale provvedimento, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Servalli, ha l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e di tutelare e migliorare l'aspetto igienico-sanitario della città, frequentemente insudiciata soprattutto per l'inosservanza ai modi e ai tempi di conferimento dei rifiuti come da calendario.